Sono trascorsi 16 anni dal tremendo genocidio da parte delle truppe serbo-bosniache guidate dal generale Ratko Mladic nella zona protetta di Srebrenica, che colpì migliaia di musulmani bosniaci. Quest'anno, dopo l'arresto di Mladic, la possibilità di rendere giustizia appare ancora più concreta. E sarà proprio la giustizia il tema al centro di Adot Srebrenica, la quinta settimana internazionale della memoria, in programma dal 3 al 10 settembre. Anche Pescara, con le sue associazioni, rinnova il suo sostegno. Edvige Ricci, presidente di Mila Donnambiente. Quest'anno è un anno di svolta, speriamo, perché i ragazzi locali del gruppo di Srebrenica sono diventati già in grado, si sono maturati, hanno imparato, sono venuti anche da noi, hanno imparato, e sono in grado di gestire un centro che apriremo durante questa settimana per la memoria e per il futuro condiviso di nuovo interetnico, perché per questo noi lavoriamo. E si aprirà anche un centro Skype per le donne. Se Brenica è un genocidio particolare, sono stati uccisi tutti gli uomini. Una nostra amica ne ha persi 27 un solo giorno, tra padri, fratelli, figli. Quindi la maggior parte delle donne sono quelle che abitano in questa città. Spesso nelle campagne disperse noi apriremo appunto questo progetto, ma lo gestiscono loro, non noi, perché abbiamo formato quelli che lo devono gestire. Terranno questo centro Skype per mettere a queste donne disperse nelle campagne di poter comunicare con i parelli lontani. Nel frattempo andremo a Belgrado, perché dopo l'arresto di Mladic e di Karagic finalmente la giustizia può essere iniziata a riconiugarsi. E quindi faremo questo atto simbolico di portare i nostri ragazzi di Srebrenica a Belgrado a parlare con Natascha Candis, grande intellettuale della pace di serba di Belgrado.